Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 11 settembre e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e su Fuzzimib. Ho atteso di fare questo video dopo che i mercati fossero iniziati per vedere bene alcune cose nel dettaglio dopo l'analisi ciclica evoluta di ieri sera che faceva il punto della situazione sulla giornata di ieri stesso. Allora, qui è possibile che si stia chiudendo un settimo T-3? No. Siamo a 72 barre, quindi no. Qui può aver chiuso invece a 40 candele il nostro settimo T-3? Sì, assolutamente. Quindi torno a dire che se questo non sarà un raccordo, ma non ne vedo tanti in questo momento sul grafico, noi abbiamo già un ottavo T-3, un ottavo ciclo giornaliero, iniziato alle 14.45 di ieri, che è già vincolato a ribasso. Per cui l'analisi su questo mercato diventa estremamente facile. Dato che siamo arrivati soltanto a 12 barre, quindi 3 ore, proveranno a fare un rimbalzo e se vorrete potrete shortare i top perché dovremo andare di nuovo sotto i minimi che sta disegnando in questo momento, ovvero sotto i 13.159. Sotto dove? Prima di tutto, livello della media mobile a 200 periodi, quello blu. Successivamente dove si troverà la Kumo? Ma se la bucheremo, avremo belli spazi verso tranquillamente i 13.050 e poi verso la statica a 13.000-12.999. Sapete già che il target del movimento deve essere, se tutto è corretto, sarà, se tutto è corretto, decisamente più ampio. Per cui noi abbiamo già degli short in macchina, eventualmente li terremo fino al lunedì. Arriberemo in overnight. Tempo ne abbiamo per arrivarci? Perché non sono solo sempre i prezzi a dover essere visti. Dobbiamo vedere il tempo. Siamo all'ottavo t-3. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per vedere delle candele rosse che ci portino in basso. Ok? Perché? Perché possiamo arrivare fino a 11 t-3. E in più ci possono essere anche poi raccordi tra un t-4 e un altro t-4. Di che grado? Di un grado t-1. Quindi attenzione. Di settimanale che di finita rialza e poi magari appunto scende rovinosamente. Per quanto riguarda invece il fuzzinib, siamo in una situazione diversa, ovvero qui, come vedete, vi ho già fatto vedere che qui tranquillamente può aver chiuso a 26 barre, il nostro ottavo t-3 e indietro come tempo, come dico spesso nel gruppo premium su Facebook. Anche perché qui ha potuto chiudere a 49 barre al settimo, assolutamente no. Ha chiuso qua. Ci ha fatto anche, tra l'altro se non mi ricordo male, esatto, ci ha fatto una candelina in meno, 23, e poi è partito l'ottavo t-3. Qui sta partendo da questo minimo il nono t-3? Per ora non possiamo dirlo perché non abbiamo le due condizioni per la partenza di un t-3. Se non le conoscete, è il suggerimento ovviamente sempre di fare formazione su voi stessi. Anche perché questa è civica base. Ma deve essere conosciuta a memoria, interiorizzata. In questo caso abbiamo un ottavo t-3 che per ora è arrivato a 29 candele, sul massimo 44 e in media 32. Capiremo se il movimento dovrà essere simile a quello del DAX in base a che cosa succederà all'impatto con la media mobile a 50 periodi e poi il target naturale saranno di nuovo la media 200 e via di seguito. Che cosa sta succedendo per quanto riguarda un discorso l'inverso? Con la violazione di 1 e 2 swing abbiamo che da qui dovrebbe essere in partenza e dovrà confermarlo il tempo e i livelli che raggiungerà il secondo t-1 perché abbiamo fatto un 1, 2 tempi più un 1, 2, 3 tempi. Quindi abbiamo fatto 5 t-3 che compongono un t-1 lungo. Adesso dovrebbe partire il secondo. Peraltro, come al solito, se utilizzate strumenti semplici io ho già i livelli d'algoritmo per la giornata di oggi ma se utilizzate anche solo strumenti semplici vedete target naturali dove si può arrivare 19.672 e via di seguito. D'accordo? Questo direi che è abbastanza tutto. Ritornando sul DAX potete fare la stessa identica cosa. Io ho già invece i livelli di dove si può serenamente arrivare grazie all'algoritmo. Oggi è venerdì. Ricordatevi anche questo. Regola del venerdì. Se dovete aprire dei trading, iniziare delle operazioni fatelo la mattina, non nel pomeriggio. Statisticamente è più difficile fare un buon trading nel pomeriggio. Ma dipende da che cosa volete fare. Noi intendiamo portare la nostra operazione appunto eventualmente anche in overnight, per lunedì, martedì o martedì. Buona giornata a tutti. La mia sera splenda per chi mi sono già programmato così.